2 a 0 per l'Inter con i gol di Jimenez e Julio Cruz, ci sono solo applausi però da parte della Curva Viola ed è questo il terzo tempo tanto annunciato alla vigilia di questa partita per sottolineare un certo tipo di fair play vedete una sorta di tappeto per le squadre alla fine del terreno di gioco, un tappeto Viola che porta i protagonisti direttamente nel sottopassaggio per poi raggiungere gli spogliatoi c'è la stretta di mano tra i giocatori della Fiorentina e quelli dell'Inter, vedete quelli della Fiorentina in stile rugby sono allineati da una parte e quelli dell'Inter passano sulla passarella Viola in quanto vincitori, gli avversari, chi ha perso stringe la mano è una bella cosa, una bella cosa che ha voluto fare la Fiorentina quest'oggi allo Stadio Franchi bisogna sottolinearle queste cose ricade, bisogna sottolinearle queste cose ricade, rimarcarle sempre